Io mi chiamo Pasquale Gaviere, sono un brigadiero del carcereno. Io mi chiamo Gaviero Pasquale, sto appoggiando alle 23. Faccio il destino cadenato, che alla sera mi sento una straccia. Qua porto un acqua, un braccio speciale, c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno qua ho in quattro i pamoni, i briganti, i bamboni, i cornuti e i lacchi. Tutto il giorno qua ho in quattro i cammini, i ragazzi, i ragazzi, i ragazzi, i ragazzi. Ma la fine mo' ti e tu papa, le mie sbuo t'o ne mi leggo giornal. Mi cos'è giocando rapa e che 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 pece bevi mo' caffè. Ah, qui bello caffè, bringa ce rosaneva. Qua di cattara ci tirinen la compagna di ce la brecita mamma. Ah, qui bello caffè, bringa ce rosaneva. Qua di cattara ci tirinen la compagna di ce la brecita mamma. A proposito, tengo un frate che da 15 anni è stato disoccupato. Ti l'ho fatto 40 concorsi, 90 domande, 100 ricorsi. Voi che date conforto al lavoro, eminenza vi bacio e vi implore. Chi lo dorme con mamma e con me, che creme da rollo che è che su cavi. Ah, qui bello caffè, bringa ce rosaneva. Qua ricetta raci tirinen la compagna di ce la brecita mamma. Ah, qui bello caffè, bringa ce rosaneva. Qua di cattara ci tirinen la compagna di ce la brecita mamma. Wow.